Negli ultimi dieci anni c'è stato un percorso di innovazione pazzesco in Italia. Questo percorso ovviamente tralasciando tutto quello che ha a che fare con il mondo di internet e del social, gli impatti più grandi ci sono stati sicuramente in due ambiti, che sono quello del big data, quindi nella capacità di trasformare dati in azioni, ma soprattutto anche quello che è l'ultimo trend, quello dell'internet of things, l'internet delle cose, in particolar modo nell'ambito dell'industria. Quindi la connessione dell'internet of things con i big data sta cambiando completamente il modo di operare dell'azienda, ma sta cambiando anche il modo con cui noi, noi clienti, ci rapportiamo nei confronti dell'azienda stessa. Questo perché tutto è connesso e le informazioni diventano disponibili in entrambi i sensi, quindi sia dal cliente della sua azienda che viceversa. Immagino un percorso attraverso il quale i clienti lavoreranno sempre di più con le aziende, quindi immagino un funzionario bancario che crea un prodotto finanziario, assicurativo, lavorando sui dati e collaborando direttamente col cliente finale. Immagino un mondo in cui alcuni oggetti che sono connessi e che noi abbiamo addosso parleranno direttamente con i social network. E come dicevo durante il panel, immagino che le aziende saranno così connesse, le linee di produzione saranno così connesse, i dati disponibili nel cloud, che io cliente potrò permettere di scegliere dei prodotti anche rispetto al percorso che hanno fatto all'interno delle linee di produzione. Per cui il gap fra cliente finale e azienda diventerà ancora più corto e quindi migliorerà la relazione fra i due soggetti in causa. Nel campo dell'IoT l'aspetto fondamentale è essendo un nuovo mercato, essendo un'esigenza nuova, essendo un'esigenza che in alcuni casi in alcune aziende non è ancora mappata, perché questo significa che non esiste ancora budget, o perlomeno si sta pensando di, secondo me la chiave di volta è quella di creare proof of concept, quindi test, basati su dati reali, il più velocemente possibile in maniera tale che i clienti, quindi le aziende, possano toccare con mano gli effettivi benefici di avere un'azienda connessa e di poter collegare persone, dati e cose all'interno dei propri processi aziendali. Quindi creare meccanismi per visualizzare il più velocemente possibile quello che è la messa a terra di queste applicazioni industriali nell'ambito IoT. Grazie a tutti! Grazie a tutti!